Salve a tutti ragazzi e benvenuti a SIVI questo nuovo video di Minecraft della Cuboidot Post vi devo chiedere scusa perché nel video scorso avevo confuso delle cose qui non c'andava il crafting unity ma c'andava il crafting coprocessor unity scusatemi tanto mi sono confuso, chiedo tanto scusa, non succederà mai più allora cosa ho fatto? Ho fatto l'autocrafting allora io ho scoperto che c'era la possibilità di fare c'è quindi non si chiama AE2 staff ma si chiama AE2 extra quindi c'è la possibilità di fare tutto quanto più grande della base di Applied 2 Logistics e quindi sì l'ho provato a fare e funziona adesso vado a fare ancora l'ultimo che mi sono fatti off camera a due pare della miseria però insomma l'ho fatto adesso vi spiego tutto quanto non vi preoccupate scusatemi ancora ma non so cosa mi era preso e allora andiamo a fare un attimo il 256 che era uguale a quello 128 però con 3 insomma avete visto come si faceva adesso lo andiamo a incassettare con questo con la crafting unity la crafting unity si va a incassettare lo ho confuso ok la mettiamo qua così ho fatto anche il secondo che ho collegato qua che adesso dovrebbe dirmi che effettivamente dovrebbe esserci tutto quanto appena si connette e 11 di 32 dovrebbero essere tutti collegati questi sono 9 questi qua ce n'è 1 2 di cannel 11 9 10 11 ok perché 2 di questi e esattamente 9 di questi fa 11 la matematica quella è e quella rimane perfetto allora cosa ho fatto ho messo la fornace come avevo detto e ho fatto un po' di modifiche perché mi ero dimenticato per tanto tempo ragazzi che non lo uso quindi cosa ho fatto ho messo qua sotto ho messo un ME import bus che cosa vuol dire che praticamente questo ME import bus che vi faccio far vedere come si fa dove cacchio l'ho messo ovviamente non c'è questo possiamo toglierlo l'ME import bus ME import eccolo qua cosa serve praticamente una volta che è stato questo che è facilissimo da fare come avete visto il crafting è molto semplice una volta che è stato questo cosa vuol dire che praticamente lui dalla ME va a importare ciò che verrà messo al suo interno quindi in questo caso quando questa qui butterà fuori il risultato lo andrà a mettere qui dentro che qui dentro lo andrà a importare direttamente nel sistema nel nostro sistema insomma è quello quindi quando andrò a fare un crafting cioè una smeltata qua quello che uscirà andrà direttamente dentro poi gli ho messo sopra una interface fatta così più diciamo basica che occupa meno spazio basta mettere dentro una interface normale e si fa ed è questa per fare in modo che comunque ci mettessi dentro il pattern che avevamo fatto in precedente precedente sede insomma nel scorso episodio quindi praticamente lui la vedrà qui esatto lui sa questa encoder è un pattern che sa che deve fare con la pietra la pietra cotta ok quindi questa serve per quello sopra cioè qua gli ho messo un ME export bus che cos'è la stessa cosa dell'import solo che è esporta poi vi faccio vedere come si fa export non mi ricordo scusate stiamo facendo dei lavori che si fa in questo modo uguale all'altro solo che cambia qualche piccola cosa però si fa così vedete senza il piccione appiccicoso e praticamente cosa farà farà la stessa cosa dall'import solo che è esporta tutto qua quindi quello che c'è dall'apply andrà direttamente messo qui dentro in questo caso io gli ho detto di importare il coal così lui si ricaricherà sempre di coal li ho messi così perché purtroppo prende solo da di qua da sopra scusate si da sopra e da sinistra o da destra e esce solo da sotto quindi ho dovuto fare così poco bello da vedere però almeno l'ho fatto e quindi e quindi si dai sono contento almeno abbiamo fatto una delle tante cose che volevo fare adesso abbiamo la possibilità di smeltare quello che vogliamo e sono contento di aver velo spiegato scusate se ho fatto quel piccolo sbaglio però può capitare adesso volevo vedere di fare mettiamo via un po' di roba adesso ho fatto un po' più di spazio però comunque effettivamente c'è tanto da mettere a posto ho fatto un altro 1k adesso lo metto per il momento poi dopo vediamo questa è una pattern che devo mettere a posto adesso questa la facciamo così così almeno dovrebbe essere libera no come si libera adesso questa versione oh così scusate non ci c'è da più eccoci qua così almeno siamo a posto allora cosa facciamo adesso volevo fare le fasade di mettiamo anche la furnace di questo che non non mi ricordo mai come cacchio si facciano vediamo un po' così no 64 vabbè è uguale fammene un po' mettiamole via voglio vedere se effettivamente qui si può coprire senza problemi eccessivi e sono contento scusate mi ha ballato tutto poi non posso coprire peccato vabbè è bello anche così vedersi però almeno così è più pulito no qui stessa cosa potremmo far così e però insomma non so quanto bello possa essere eccoci qua vabbè l'abbiamo messo tanti saluti insomma è un po' ingombranto però insomma oppla slagata però insomma dai vediamo adesso vedo come sistemarlo perché non e sono sicuro proprio che possa essere bello da vedersi è un po' una cacata lo sciopero purtroppo lo potevo far cioè potevo far diverso lo potevo mettere di un gardino più basso tanto questa chi cazzo la vede insomma si lo metterò a posto lo abbasso di uno così qui non c'è più niente e almeno c'è solo c'è solo questo si farò così va bene comunque l'importante è che vi ho spiegato anche se è un po' insomma non sempre bene però insomma al fine quello è e quello rimane allora adesso che abbiamo sistemato l'autocraft e abbiamo sistemato tutto possiamo andare avanti con le creste e si è è anche ora direte allora io dato che ho fatto tutto di questo ho fatto tutto di questo e ho fatto iniziato a fare questo e non ho fatto tutto un cazzo perché mi manca tutta la melter e la smelter inizierei a fare la melter e la smelter allora cosa vuoi vuoi allora cominciamo a togliere un po' di roba perché mi sciscono un attimo scoglionati tutte le cose qui l'interface può servire la moleculazione può servire questo l'abbiamo tolto questo l'abbiamo tolto questo mi servirà poi queste mi serviranno questo mi servirà tutta roba che può essere interessante da fare ok allora facciamo questa poi facciamo questa ho già messo alcuni pezzi dentro l'applied così per far prima non dovremmo avere tanti problemi allora facciamo questa che si fa così ho già messo i seared e poi facciamo questa che facciamo così e siamo a postolo allora grazie molto gentilo cosa vi dice la cresta la serad smelter è una piccolo un piccolo contenitore per meltare dei piccoli quantità di materiali ha bisogno di un seared head hand un seared insomma da mettere sotto un faucet e un casting basing ok nota questa si red melter non può alloiare materiali ah in questa versione non la fa prima c'era un modo di farlo lo stesso forse hanno tolto i materiali per farlo un pezzo che mancava c'era un pezzo praticamente si mettevano due melter e in mezzo si metteva una specie di tank che andava a mischiare il tutto che ho fatto nella vi ho fatto vedere nella sky factory 4 ok allora andiamo a fare il resto questo l'ho fatto perché non me lo segni perché ne vuole uno da parte ma sei proprio un pezzo di merda diciamo bisogna dirtelo eh vabbè andiamo a farlo eccolo qua l'hai segnato adesso bravo a post e questi due sono a cavallo fatti poi mi serve il faucet ovviamente il faucet mi serve ok poi cosa mi serve torno indietro no scusate mi serve questo vai oddio non mi trovo per niente sto coso poi mi serve il casing perfetto poi mi serve il il shapes che lo shapes serve per fare tante cose ok adesso che abbiamo tutto possiamo iniziare a fare tutte le varie cose quindi questo quindi questo di faucet ne vorrei tre facciamo ah lui vuole questo non mi fai usare la lava che brutta storia vabbè io di questi ne voglio ah me ne fa già due ma mi sei stato gentile caro ok in teoria è già pronta questa basica certo mi fai usare quello non è che mi piace tanto questa che che cosa è la tinkers ok vediamo un po' ok la tinkers dovrebbe avere se non l'hanno tolto a parte che devo fare ancora il preset tutto della crafting station che avevamo fatto non mi ricordo mica adesso ci guardo dobbiamo fare vabbè poi c'è quello per trafruttare adesso non mi interessa il guge guge è quello che ho nell'inventario sì dunque fatemi vedere se c'è alternative time liquid when broken ok ideale per il materiale ho del 2 ingot ok ha un coso di 32 la tink ok ci voleva la tink e l'hitting che volevo vedere se ce l'aveva non mi ricordo sinceramente comunque questo qui è un po' una cacca però va bene facciamolo così allora una stanza l'avevo iniziato a preparare e quindi mi allargo un attimo ci vediamo fra poco ed eccoci qui insomma sì ho fatto la stanza e adesso possiamo fare la mentre come dice lui comunque si fa così è bruttissima io preferivo quella là anche perché questa è limitata però effettivamente dopo ci fa andare con quella non limitata e siamo tutti a cavallo tutti a posto allora come facciamo allora come da disegno ci vanno questo qui in mezzo quindi allora lui la fa così adesso non è che mi piaccia molto come la faccia lui però va bene io ho un altro metodo però insomma sì allora dunque ci va questo qua se non ricordo male come l'ha fatto lui sì ok sì ma così è brutta ragazzi io ce la faccio è più forte di me dai insomma non riesco allora vediamo un po' così no quello che usa meno è questo quello che usa più è questo questo qua lo mettiamo qua sì io avrei usato un'altra cosa però insomma non è utile di stare a sindacare a sindicalizzare dove la mette lui non lo mette proprio questo vabbè qui però io mi ricordo che c'era questo con sopra quell'altro adesso io non ricordo quale fosse allora sarebbe ingot tank sarebbe fuel tank ecco esatto questa qua ci va questa qua che è il fuel esatto va così e praticamente sotto togliendo questo ci ho messo direttamente quello perché noi abbiamo adesso la lava adesso non abbiamo la possibilità di fare la lava infinita però vediamo un po' bucket bucket cosa ho questi li vado a prendere un attimo la lava perché non mi piace proprio lo so che quello lì è più automace nel senso con quello lì gli diamo qualcosa da cuocere però io ricordo che le vecchie versioni non so in questa era un po' limitato nel senso che non poteva cuocere tutto però insomma adesso posso mettere uno di quelli qua vicino e switchare ogni tanto non è che il dottore mi ha detto no non lo fare posso far così anzi quasi sicuramente lo farò vedete adesso c'è il fuel e qui possiamo mettere a smettare la roba e dopo lo dragniamo con i faucet così e così qui facciamo direttamente i cubi e qui facciamo le varie combinazioni che serviranno l'ingot doveva fare lo stampo eccetera quindi noi già qua possiamo smeltare i primi materiali adesso vi faccio vedere se riesco a prendere qualcosa da bruciare da smeltare che cazzo smelto a parte che devo fare con l'oro i vari stampi quindi se io adesso esempio mi prendessi un osmio che adesso non ho quelli basici vi faccio vedere come funziona io lo metto qua lui lo trasforma in liquido vedete e dopo per trasformarlo in lingotto io ho bisogno di mettergli tre lingotti mi sembra due o tre fare un lingotto metterlo qua per fare da stampo quando lui l'ha creato ovviamente lui ne vuole uno alla volta e quindi non possiamo farci un cazzo oh che palle bel problema allora per adesso lo metto qua perché questa è limitatissima scusatemi allora io adesso ho messo un lingotto qua gli dico qua di farmi lo stampo lui lucerà questo lingotto però mi creerà uno stampo quindi da adesso in poi io tutto quello che c'è qui dentro lo posso lingottare capite molto semplicemente adesso io per recuperare tutto mi tocca andare a prendere un po' di osmio per non buttarlo via dunque 8 8 più 1 ok così vi faccio vedere anche gli altri allora si prenderà qui adesso qui se mettiamo sotto un hopper con una cassa diciamo di tutto quello che esce da qua di appunto farlo farlo molto semplicemente quindi mettiamo un hopper o un transfer node insomma quello che c'è direttamente sotto questo qui e sotto questo qui diciamo di convergere in una cassa insomma con i cavi magari e così tutto quello che uscirà di qua e qua con un time clock o con un clocker o con non so cosa ci sia qua lo possiamo lo possiamo lo possiamo mamma mia automatizzare ecco qua vedete adesso lui farà il nostro che piano piano smelta più o meno fa tutto è basico sì lo so però a volte se abbiamo fretta e magari impegnato a qualcos'altro è un'ottima alternativa io però adesso andrei direttamente sulla melter qui quanto manca manca poco così almeno siamo a posto non è lenta perché mi sembra abbastanza veloce però insomma ok questo fa quello adesso noi facciamo così appena la smetta facciamo anche l'ingolto per farvi vedere che si può fare anche alto vedete lui adesso mi ha fatto il cubo deve raffedarsi ma ha fatto il fretta credo ok si è raffedato adesso noi abbiamo il cubo di osmio perfetto qua facciamo l'ingotto vedete possiamo fare tutti i lingotti che vogliamo che si possono ingottare e quindi molto semplicemente così io preferisco farla così adesso qua posso mettere uno di questi senza eccessivo se ho sbagliato faccio sempre figurare cioè mi sono fatto così e non ci possiamo fare niente ecco qui prendo uno di questi che è tanto brutto anche vedersi ecco qua lo mettiamo a posto qui posso prendere anche questo tanto nessuno insomma neanche il dottore mi ha detto ma sa e che casso ecco qua questo buttiamo via perché non lo posso vedere buttiamo via e tanti saluti quindi andiamo a metterci qua il nostro che e siamo a posto io direi che almeno questo coso qui è fatto quindi io lo metterò un attimo nel muro che tanto non si può vedere lì allora facciamo così così ci mettiamo quella che non ho qua sotto con una cassa dopo vedrò ci metterò il resto allora prendiamo un po' di cosa di questa mettiamo via sta roba che non ce la faccio più a vero all'inventario eccoci qua gli mettiamo momentaneamente a mano perché e così lui fa la lava così almeno quando possiamo adesso metto una cassa qua che dopo convergerà tutto ce l'ho la cassa col cazzo ma risposto e vabbè così una cassa signor Baulo dov'è il signor Baulo non ho una cassa eccola qua la cassa posto mettiamo la cassa dopo ci metto i cavi che convergeranno lì siamo a porta adesso metto questo qua e i cavi dopo li farò li farò dei cavi che escono direttamente da là tanti saluti insomma sì ok questa è fatta l'espiegata adesso andiamo a togliere sta roba allora io potrei anche fare una cosa vagamente ma proprio dire vagamente intelligente insomma dire intelligente dire brutto lo so non si può vedere ma adesso non punto alla bellezza punto all'efficienza dopo l'esteticità ci guardiamo poi intanto lui si riempie di 4 bucket si 4 bucket così almeno dopo con un secchio che dove cazzo ho messo qua che per adesso metto qua sui cero quando mi servirà per il secchio prendo 2 bucket li metto qua questi ci sta 4 bucket e siamo proprio a cavallo quindi proprio abbiamo sempre il rifornimento completo per fare il resto per andare avanti quindi togliamo sto coso che non si può vedere questo coso e andiamo a fare il resto si vedete quindi lo fa con una chest dietro con l'hopper che gli va direttamente dentro si è vero si può fare così però è una cosa veramente momentanea ragazzi vedete qui ci mette un hopper che gli va a inserire dentro qua una cosa per attivare il tutto ma si può si fare è vero vedete poi mette un hopper sotto ma come avevo detto addirittura qui due casse per separare non importa però non mi interessa perché noi passiamo quella dopo che è molto molto meglio allora qui mi dici ah perché in questo pack o in questo modpack o in questo mod direttamente lo stampo si può fare anche con la sabbia non lo sapevo cioè nel senso non me ne sono accorto adesso quindi noi facciamo così dovremmo essere così in teoria esatto con questi noi possiamo fare gli stampi vabbè che cosa carina alla fine si è carina come cosa dai non so se è la versione che è stata aggiornata cioè è stata fatta così perché non la conosco questa versione così aggiornata può darsi di sì comunque è una cosa carina quando vogliamo fare gli stampi adesso l'ho fatto con l'oro ma potevamo farlo con la sabbia ma è una cosa carina è un'aggiunta che mi piace metto via tutta sta roba qui che so che è inerente a quello e siamo a posto poi andiamo avanti probabilmente ci sarà stato anche scritto che si può fare con un blocco puoi prendere quattro blank send cast vedi in crafting table usata tipicamente per blancare i cast per piazzare sul crafting table per fare appunto i cast di vari cosi dei vari item beh una volta si usava nella versione che giocavo io giocai io si usava il oro il molten mi sembra e il argilla argilla cotta la terracotta per fare i stampi vedete che qua invece ha voluto semplificare molto vedete bisogna fare questo ovviamente però vi dice fai un coso ma io l'ho già fatto quindi siamo tutti a posto posso prenderlo se volete ecco me lo dovrebbe aver segnato a postolo questa è andata adesso possiamo finalmente passare a quest'altra che è la versione più approfondita diciamo la vecchia mette io conosco smeltere non so questa che differenza ci sia probabilmente è fatto un po' meglio ah ma c'è un fetetone ma cosa vuoi una cosa così del genere ma va bene insomma si eccolo qua quindi per fare sto coso io devo metterlo qua mi va bene non è un problema cosa vuoi il molten copper vabbè il copper ce l'abbiamo ma noi ce l'abbiamo tutto ma c'è il copper dove cazzo ecco copper signor copper signor copper eccolo qua ovviamente ho fatto una cacata però tutti sono capaci a fare le cacate come faccio io però insomma si ma un attico no no non un attico no facciamo anche due attichi dopo facciamo così intanto io prenderei un po' di secchiate di lava così faccio prima ragazzi mi piace di più che mi devo dire mi piace di più mi piace di più ok a poi andate qui si sta facendo gli facciamo un altro po' e li mettiamo qua dentro per fare sto coso adesso piano piano si riempirà adesso non so esattamente quanto le voglia basta non ne vuole più quindi rifacciamo gli ingotti e facciamo questo e ce l'abbiamo fatta ok perfetto cioè è bellissimo mi piace di più sto setup che vi devo dire a me piace così e siamo a posto e questa è andata poi dobbiamo fare il tank very much perché la bacca ne vuole lo vuole se lo vuole che sono io per dire di no insomma sì e andiamo a farlo così a meno abbiamo tutto quanto a postolo e siamo a cavallo ne potrei fare anche due ok sì sì lo sciascano bravo lo dicono tutti quando piazzato su un muro di blocchi la smelter provvederà a fare mille si può staccare blazing blood which provvederà a hit 25 degrado ok è più caldo insomma ok questo è fatto e poi cos'altro adesso ci salutiamo dopo ci succede un casiotto ok devo fare questi che ne vuole 29 lui vuole 29 ma io ne posso fare quanti ne voglio perché insomma sì dove si red a parte che li devo andare a fare un altro po' perché non basteranno mai per fare quello che forse li vuole così oh sì dai quanti ne facciamo non basteranno mai infatti adesso li vado a fare off camera tanto insomma avete visto come si fanno si fanno molto semplicemente così quindi cioè ne possiamo fare uno sbrotto adesso vado a prendere i materiali quindi ragazzi direi che ci possiamo soltare qui questo video è tutto invito come solito lasciare un like commento se vi piace una serie di fammi sapere cosa vi pensate e poi la saluta si va ciao ciao ciao